Oggi siamo qua, domani chissà, oggi siamo a Milano, come potete vedere siamo a casa Milan spettacolo, entriamo dentro dai andiamo a visitare il museo a Milano, come potete vedere siamo a casa, domani chissà, oggi siamo a casa qui c'è la storia del Milano, spettacolo, vabbè il mitico Franco Baresi a Milano, come potete vedere siamo a casa, domani chissà, oggi siamo a casa e Baccellona ce la ricordiamo tutti Champions contro la Juve in finale, grande Era la 94 e non c'eravamo un po' l'altra, faremo una doppietta perché era qui mi mancano le parole, trofei, sala trofei non so cosa ne pensate voi ma quella che mi ha fatto godere di più la finale di Champions con la Juve poi sono tutti i trofei no, non vedo la Coppa Intercontinentale, eccola la, eccola la, eccola la grazie a tutti 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 Questa è la sala dei palloni d'olio, Ruth Gullit 1987, Marco Van Basten 1988, 1989 e 1992 Joshua A 1995, Andrei Shevchenko 2004, ancora Riccardo Cacà 2007 Tutti i grandi campioni, però il mio idolo in assoluto è stato qua, questo qui, Ruth Gullit, grande Grazie a tutti Il simbolo del Milan, il diavolo Ciao, oggi siamo al Museo del Milan, un museo veramente bellissimo Ricordate che il biglietto costa 15 euro, per i possessori di Caltemilan invece costa 12 euro E il museo è aperto il venerdì, sabato, domenica, lunedì e martedì, decuso, mercoledì e giovedì Per cui aggiornatevi sempre perché non è sempre aperto tranne quando non ci sono gli eventi Quindi se vi è piaciuto questo video cliccate il mi piace, come dire, viaggiare e godere con carità Ovviamente il Milan è sempre un godimento Concludo il video con la visione di Caltemilancio la Champions vinta contro la Juventus nell'anno 2003. Grazie a tutti.